Mi è venuta un'idea. Vorrei creare un oggetto personalizzato, un gioiello, una collana ispirati alla natura. Però non abbiamo i mezzi per farlo. A chi potremmo rivolgerci? Possiamo venire al Fab Lab. Qui possiamo trovare gli strumenti necessari per sviluppare le nostre idee e i nostri progetti. Abbiamo a disposizione le stampanti 3D, un taglio laser e una fresa per poter dare vita ai nostri disegni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.